Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo veramente vicini al ritorno del campionato dopo la pausa nazionale, quindi riscaldiamo un po' l'ambiente e torniamo a fare qualche video a parlare di un po' di Juventus. Parliamo di Juventus anche oggi, chiaramente non in ottica partita, ma in ottica Dusan Blaovic, che come sapete è uno di quei giocatori, di quei temi aperti, lo stesso giocatore è un tema, nel senso che la questione contratto è quella che di tutte è forse la più interessante, per motivi diversi. La prima è la scadenza, il 2026, quindi non è vicinissima, però sappiamo come quando si tratta di giocatori giovani, giocatori comunque con un certo tipo di appeal, europeo in questo caso, le scadenze di sotto i due anni sono molto rischiose, perché si facilmente arriva alla fine della stagione con un solo anno di scadenza, per poi spesso replicare quelle che sono le questioni tipo legate a chiesa, se non hai un rinnovo particolare, con condizioni particolari, manca un anno, piuttosto che perderlo a zero, lo perdo a pochi soldi, magari facendo anche delle minusvalenze e quant'altro. Quindi Blaovic, di fatto, come tanti altri giocatori che si ritrovano in questo momento, in questa situazione, possono essere un rischio, quindi è chiaro che la Juventus in questa stagione, non dico da qui a gennaio per dire a metà stagione, ma nella stagione in corso, dovrà per forza trovare un accordo con Blaovic, perché se così non fosse, è chiaro che sarebbe molto rischioso di arrivare in estate con un Blaovic, con un anno di contratto ancora, con tutto ciò che sappiamo per esperienza, no? Quindi questa è la prima questione, la vicinanza, secondo me, temporale del tutto. L'altra questione importante sono le cifre, ed è qui la cifra di fatto che diventa anche una complicanza a sua volta, perché è chiaro che il giocatore può anche, a prescindere le cifre, decidere di non la trove, ma è chiaro che se la Juve vuole, deve portare avanti certi tipi di paletti, di questioni che ha già aperto, come la questione sul monte in gaggi e sulla sua bordazione a ribasso, quello che è stato fatto in questi ultimi anni, e chiaramente pur mantenendo alta la competitività e anche la scelta di chi portare in campo. Blaovic, come sappiamo, dovrebbe avere un ingaggio intorno ai 12 milioni netti l'anno, una cifra che ormai è veramente troppo, troppo alta, perché non solo è il giocatore attualmente più pagato in Serie A, e quindi anche della Juventus, ma ha veramente una differenza evidente con tutti gli altri suoi compagni, di diversi milioni di euro, perché come sappiamo la Juventus ha dato via ai giocatori che prendono tanto, Cesni, Rabiot, ad esempio, ha quella questione di Arthur ancora aperta, e penso che Arthur sia il secondo giocatore che prende di più dopo Blaovic, ma sappiamo che è un esubero, per il resto tutti sono giocatori che prendono 5-6 milioni massimo, con una buona fascia di giocatori che prende il 2-3-4 milioni, quindi quella fascia di mezzo che ci va benissimo. Quindi Blaovic ha sicuramente un ingaggio molto alto, ingaggio molto alto per due motivi, secondo me il primo è quello che è legato al confronto con i suoi compagni di squadra, l'altro è un ingaggio molto alto per quello che poi fondamentalmente sta facendo, per quello che è Blaovic adesso. Blaovic è sicuramente un giocatore con enorme potenziale ancora da esprimere, è un giocatore forte, ma che come sempre ci mette spesso a discutere sul suo reale valore, su quanto effettivamente porti in campo, è un giocatore di cui sappiamo che spesso fa gol bellissimi, ma sbaglia quelli più facili, spesso si evidenzia la sua abilità, la sua capacità, la sua forza in partite magari più facili per sparire in quelli più difficili. È un giocatore che ancora non ha trovato la vera quadra, non lo sappiamo in questo momento, se non proprio per questo momento, collocare Blaovic su una classifica di attaccanti, dal più forte al meno forte, perché sì, potremmo farlo rispetto a questo momento storico, ma guardando la carriera di Blaovic e il suo totale, insieme del suo valore, probabilmente si è molto confusi da quello che è stato il suo percorso. Tenendo conto anche che Blaovic, a differenza di altri giocatori di livello, non ha un'esperienza europea tale per cui si possa veramente dire di Blaovic ok, questo è un grande attaccante. Certo, il Serie A ha dimostrato di esserlo, con anche di bassi, non solo degli altri, in Europa un po' meno. E appunto per questo questa stagione sarà molto importante, questa stagione che quindi si accompagna alla tematica rinnovo e penso che poi il tutto verrà fatto poco a poco per questo. Quindi è chiaro che da questo punto di vista la Juventus ha diverse, come dire, motivazioni per rinnovare a ribasso, tra quelle più oggettive, no? E quelle più soggettive, come il valore di per sé che sta esprimendo Blaovic. D'altra parte, Blaovic dovrà scegliere, è chiaro che dal mio punto di vista difficilmente dovrà avere una squadra che possa offrirgli quello che prenda adesso o di più. Qualcuna forse tra gli inglesi, perché gli inglesi sappiamo, o le spagnole, magari hanno molti ingaggi più alti, anche se anche in Spagna non è che proprio viviano in Barcellona, ha avuto diversi problemi anche con l'ingaggio di Chiesa, che era uno dei loro obiettivi. Però fondamentalmente la vedo difficile, c'è un giocatore che ancora non ha dato queste conferme per cui si possa veramente pensare che qualcun altro, se non poche squadre, possono prendersi Blaovic. Quindi che Blaovic stesso possa avere la possibilità di prendere quello che prende adesso. Poi ci sono le scelte che farà Blaovic, magari vorrà provare qualcosa altrove, quindi la Juventus dovrà tutelarsi con una cessione in estate, piuttosto che rinnovare per poi cederlo. Tante sono le dinamiche. Quello che sappiamo adesso è che la Juventus deve per forza lavorare a questo rinnovo. Blaovic stesso stesso, giustamente, penso che vorrà sapere di qui ad un lungo termine cosa farà e dove sarà. E quindi penso che sarà un tema che andremo molto a dibattere in questa stagione e che si chiuderà per forza di cose in questa stagione, perché secondo me, come è successo, lo ripeto, con Chiesa poco tempo fa, se si arriva a scadenza di un anno è molto probabile che il giocatore vada via e che resti, perché poi diventa probabilmente una cosa che ci si porta avanti e si rischia poi di creare una perdita di valore, di introiti, di incassi legati all'accessione e quindi è meglio preservare la cosa e farlo adesso. Poi chiaramente se adesso si rinnova e si prolunga da 2026 al 2029, come probabilmente se verrà fatto, verrà fatto, ecco che poi se viene ceduto l'estate si può proteggere chiedendo al nuovo acquirente cifre molto importanti. Quindi da questo punto di vista il rinnovo per Juventus è sempre un vantaggio, perché puoi venderlo bene, se è un caso non è, e soprattutto abbassare il monte in gas ulteriormente, che è già molto abbassato, ha fatto giunto un lavoro pazzesco e mancano due cose da fare, anche per eventualmente dare un po' di spazio per un mercato invernale di riparazione rispetto a qualcosa che manca. La vendita di Arthur, qualunque se sia un prestito secco per metano, un regalo insieme ai pacchi di Natale, quello che è risparmiare lì, e un piccolo ritocco all'ingaggio di Blauvic, che porterebbe veramente a benefici a bilancio, perché chiaramente il carico residuo del suo valore a bilancio andrebbe spalmato probabilmente per più anni, quindi c'è anche un effetto importante sull'ammortamento. Se dovessimo portare a casa queste due cose, da qui a fine anno, inizio anno, 25, secondo me Juventus ha veramente fatto un lavoro da 10 quasi, cioè se commettiamo insieme i due mercati estivi e invernale, e allora lì potremmo veramente spazio per avere qualcosina, anche secondo me in inverno, perché da quanto risulta, quello che si è letto, c'era l'idea di portare qualcosina a casa, ma secondo me siamo stati bloccati dalle sessioni di costi, ci sono arrivate troppo tardi, e quella di Arthur non è ancora arrivata. Quindi secondo me se la stagione va bene, facciamo le cose fatte bene, eccetera, eccetera, ci sarà divertirsi anche nei prossimi anni, secondo me dal punto di vista del mercato. Vedremo, intanto testiamo la rosa e testiamo lo stesso Blauvic, che è parte integrante e fondamentale di questo video. Aspetto qui sotto i vostri commenti, come sempre Forza Juve e alla prossima. Ciao!